Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, come sempre, ben ritrovati qua nel disordine usuale della mia libreria, dal sottoscritto e dalla mia sciarpa dell'Ajax. Insomma, cari signori, lo sapete bene, sono un interista di merda, sono un antigobbo del cazzo e faccio il mio civico dovere, anzi un obbligo per me, di gufare come una testa di cazzo, vabbè, lasciamo stare, quindi, vabbè, che vi posso dire, si gufa, si gufa, si gufa, si gufa, speriamo bene, per noi gufi, detta com'è. Allora, cari signori, cari signori, cari signori, torniamo a parlare dei rapporti, torniamo a parlare della situazione delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana nel 1944 in Toscana. L'amico Paolo Alpini mi ha fornito un interessante documento e nella descrizione al video troverete il link alla fonte, perché si tratta degli archivi della Repubblica Sociale Italiana che sono disponibili online, dicevo, l'amico Paolo Alpini mi spedisce, mi manda un promemoria, un documento, un promemoria di alcuni informatori, sempre toscani, a proposito dei pessimi rapporti tra l'esercito della Repubblica Sociale Italiana e le milizie, le legioni della camicia nere, le brigade nere, insomma. Sentite un po' che cosa mi ha procurato l'amico Paolo Alpini, ci sarà da ridere. Allora, sentite bene. Ops, scusate. Allora, promemoria per il Duce, Ricci, Graziani, Mischi e Parodi, 15 giugno 1944, anno 22esimo dell'era fascista. Come già posto in rilievo nei precedenti notiziari, il morale dei reparti dell'esercito repubblicano, si è sempre mantenuto nella provincia di Siena assai depresso, dominato da un senso di apatia assoluta, oggi che gli eventi bellici momentaneamente possono apparire a noi sfavorevoli o e il banditismo ha dilagato in tutta la provincia, la truppa dell'esercito repubblicano rivela la sua vera anima attraverso una infinità di episodi più o meno palesi ma tali, scusate, più o meno palesi ma tali da metterci in guardia contro le armi di questi soldati che al momento opportuno è presumibile spareranno sui fascisti e sui militi della guardia nazionale repubblicana. Ah, in pratica gli informatori del Duce informano il Duce e Graziani che l'esercito repubblicano è prossimo all'ammutinamento e molto probabilmente più che sparare agli alleati angloamericani, questi vogliono sparare ai militi delle camicie nere. Si citano in merito gli episodi più degni di rilievo, dice l'informatore. Il primo corrente, ovvero sia il primo giugno 1944, verso le ore 23 durante un allarme aereo per cui gli edifici, compresi quelli militari, trovavansi privi di luce, nella caserma La Marmora, dove trovasi accantonato insieme al battaglione scuola allievi ufficiali della guardia nazionale repubblicana, il primo battaglione complementi dell'esercito, nelle camerate da queste ultime abitate furono cantati inni sovversivi e vennero gridate dalle finestre e dalle camerate stesse le seguenti frasi. Verranno i ribelli a liberarci? Morte alla milizia? Siete un branco di merde! Eh, che vi devo dire? La notizia della caduta di Roma ha dato luogo a scene inqualificabile da parte di gruppi di soldati ubriacatisi per festeggiare l'avvenimento. Assenti ingiustificati dei reparti dell'esercito si notano ogni mattina in numero maggiore, mentre quelli presentatisi in virtù del bando del 18 aprile sono stati in numero trascurabilissimo e la maggior parte di essi, resisi conto della situazione, hanno ripreso la via del Bosco. Allora, una paginetta battuta a macchina questa che, come dire, ci mostra pienamente la putrefazione, chiamiamola con il suo nome, la putrefazione dell'esercito repubblicano di Salò, dell'esercito repubblicano comandato da Graziani. Una forza armata raccogliticcia, male armata, demotivata, in rapporti pessimi con i reparti, tra virgolette, politici e politicizzati delle milizie del partito. Insomma, lo stesso informatore dice che c'è il rischio, anzi la quasi certezza che i soldati dell'esercito repubblicano al momento giusto o a un certo momento prenderanno le armi e non le useranno contro gli anglo-americani, ma le useranno contro i fascisti e i militi della Guardia Nazionale Repubblicana. Non c'era, allora mettiamola così, fin dai tempi in cui le legioni delle camicie nere furono aggregate alle divisioni dell'esercito, i rapporti tra la milizia volontaria di sicurezza nazionale, le camicie nere e l'esercito regolare furono sempre pessimi perché la considerazione che i militari di professione avevano delle milizie fasciste erano pessime. Oggettivamente, a parte alcuni episodi come per esempio il comportamento della legione camicie nere tagliamento in Russia durante la cosiddetta battaglia di Natale, a parte alcuni episodi il valore bellico delle camicie nere fu sempre decisamente scarso. Insomma, praticamente qui abbiamo un reparto di giovani ufficiali di complemento dell'esercito repubblicano che alla prima occasione si mette a insultare i militi della Guardia Nazionale Repubblicana con epiteti oserei dire irriferibili e con la preoccupazione dei vertici del partito fascista repubblicano che questi soldati, che i soldati di Graziani non aspettino altro che tirare fuori le armi per sparare ai comiltoni, ai camerati della Guardia Nazionale Repubblicana. Insomma, un bel vespaio. La situazione della Repubblica Sociale Italiana è uno Stato debole, uno Stato fantoccio, uno Stato diciamo che si reggeva in piedi soltanto sulle armi e sulla presenza tedesca. Emerge la debolezza, lo squallore, la... ho usato il termine putrefazione, non me ne viene in mente un altro. La putrefazione della Repubblica Sociale Italiana emerge pienamente da questo breve rapporto inviato al Duce, a Graziani, a Minsky e a Ricci da parte di un informatore dalla Toscana. In provincia di Siena, a Siena, nella caserma La Marmora, dove i militi della GNR e i soldati dell'esercito repubblicano si addestravano gomito a gomito, le due unità si odiavano con ferocia. E la voglia di chiudere certi conti era assolutamente in dubbia, tant'è che, ripeto, l'informatore lo dice chiaramente. I soldati dell'esercito repubblicano non vedono l'ora di usare le armi contro i fascisti e i militi delle camicini. Tutto qua. Insomma, una situazione disastrosa, una situazione catastrofica, l'ennesima dimostrazione della debolezza, l'ennesima dimostrazione della inesistenza, se vogliamo, dell'autorità di Salone. Tutto qui. Quindi, cari signori, il sottoscritto vi ringrazia tantissimo per l'attenzione, vi rimando alla descrizione per il link dell'archivo da cui ho tratto queste informazioni e come sempre, cari signori, arrivederci al mio prossimo video. Ciao!